No, no, non puoi fare così No, no, non puoi fare così 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 No, no, non l'hai finito L'hai finito? GG Prima l'italiano a finire in Mechamame Più includi la roba di ieri sera Si è spaventato il livello, aveva detto che lo lasciavi lì per cena Si è spaventato Ovviamente per motivi super ovvi il traguardo lo lascio fare a te, mi sembra proprio giusto No, 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 non puoi fare così